Gentili telespettatori, buona giornata. Come iniziare questo video? Sono proprio deluso, non so voi. Viene rieletto al soglio Quirinalizio Sergio Mattarella. Il bis vince la sinistra e i suoi alleati. Non vince l'Italia, non è stato rieletto per chissà quale ragione, per l'unità nazionale, per la continuità del percorso. Prima di tutto viene eletto per la continuità dello stipendio dei parlamentari. Ricordiamoci che questa è una repubblica parlamentare fondata sul mutuo del deputato. Primo motivo perché è stato rieletto e acclamato Mattarella. È un presidente che, diciamo, forza maggiore è successo che dà le dimissioni conte e ci manda a governare l'Italia Draghi dicendo c'è Covid, non si può votare. E molti, compreso io, ma prima abbiamo votato per le regionali con il Covid. Adesso sono programmate le elezioni comunali in 8.000 comuni e lì non c'è il Covid, mentre per le politiche nazionali c'è il Covid. Strano, vero? O perlomeno, permettetemi il termine, è un po' curioso, vero? E così sarebbe nato il governo Salvini 1. Molti dicono per fortuna, chissà adesso come saremmo ridotti, però non possiamo fare processi a cose che non sono mai avvenute. Doveva nascere il governo Salvini 1. Era il primo partito, era capo del centrodestra. Sarebbe stato il governo Salvini 1. Non è mai avvenuto. Secondo punto per la rielezione di Mattarella. Mattarella è l'uomo che ha fermato Salvini. Mattarella salva lo stipendio dei parlamentari col mutuo. Non vi sembrano due motivi fondamentali? All'assemblea del PD hanno esultato, applausi. Hanno poi, sono riusciti a distruggere il centrodestra. Letta, da quando è arrivato dalla Francia, il suo obiettivo non era trovare delle soluzioni per gli italiani, l'economia. No, era come distruggere il centrodestra. Come insinuarsi e spaccarlo. C'è riuscito Letta, dobbiamo rivalutare Letta. Abbiamo sempre detto, quello lì non vale niente. Ma non è vero, ma non è vero. I politici di sinistra sono scaltri, furbi, arrivano all'obiettivo. A loro non interessa niente del paese, dell'Italia, dell'economia, della pandemia, della Cassa Inter... E frega niente, quelli sono problemi secondari. Per il PD, come diceva Zingaretti, L'importante sono la spartizione del potere e le poltrone. Qui parliamo di una poltronissima, come i filmissimi di Rete 4, di Canale 5, qui parliamo di poltronissima. E allora il PD, sull'attenti, quando si parla di poltrone, è imbattibile. E' imbattibile. Quindi, punto 3, distruzione del centro-destra. Ci sono riusciti. Hanno manovrato Salvini. Gli hanno fatto credere che lui era il kingmaker. Alla fine Letta ha fatto quello che ha voluto. Ha fatto quello che ha voluto. Bisogna rivalutarlo, questo Letta. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. E poi, questo è stato uno spettacolo vergognoso, vergognoso. Sono d'accordo con Bruno Vespa, con Giorgia Meloni, con Cacciari e con altri, adesso non ricordo il nome. Non abbiamo, hanno dato, i nostri politici per caso, uno spettacolo di degrado della politica. Degrado della politica pazzesca. Cacciari, esponente di sinistra, filosofo di sinistra, del PD, è arrivato a dire che Giorgia Meloni è l'unico politico italiano. Giorgia Meloni è l'unico politico italiano, gli altri sono incommentabili tutti. E come dargli torto? Ha assolutamente ragione, ha assolutamente ragione. E così la vergogna di questo Parlamento, che votava Terensil, Albano e Giovanni Rana, hanno votato per il loro stipendio. Mattarella è la garanzia dell'accredito dello stipendio. E Mattarella ringrazia i parlamentari e i delegati delle regioni per la fiducia espressa nei suoi confronti. E grazie al cavolo, ma quale fiducia? Vedevano in Mattarella la banca, tutto intorno a noi, la banca gira intorno a te. Bene, ma lui ringrazia. Queste condizioni, dice, impongono di non sottrarsi ai doveri di cui si è chiamati. Mattarella, ti hanno chiamato per lo stipendio, non pensare che ti hanno chiamato chissà per cosa. T'hanno chiamato per lo stipendio perché hai fermato Salvini e perché questo era il modo per distruggere il centrodestra. Capisci a me. Sergio, scusi, eccellenza, santità. Sire, scusi, Sire, io glielo voglio dire chiaramente. Per questo l'hanno chiamato. Lei è l'idolo delle sinistre perché ha fermato il governo Salvini 1. Eh, perché così Lette è riuscito a distruggere il centrodestra. Perché le hanno chiesto il bis in coro? Lo ha, che bontà. E' proprio per questo, caro Sire, mi consente di chiamarlo Sire, santità, eh, santità. Bene. Nell'ottava votazione, avvenuta nella serata di sabato 29 gennaio, in maniera epica, capo dello Stato, 80 anni, ha superato la maggioranza assoluta dei grandi elettori, fissata in 505 con 759. Preferenze Mattarella ha dunque superato il bis di Giorgio Napolitano ed è il più votato dopo Sandro Pertini. Vogliamo fare un paragone con Sandro Pertini? Lasciamo stare. Che nel 1978, quando io avevo 4 anni, ottenne 832 voti di preferenze su 995. Oggi, ieri, il secondo votato è stato Carlo Nordio. Nel 2015, Mattarella ottenne 665 voti, su un totale di 995. Grandi elettori. Altri sette anni, ma potrebbe stupirci con effetti speciali. Fra un anno potrebbe dare le dimissioni, così, è stanco dalle dimissioni, e guarda un po'. Draghi sale al Quirinale. Non lo si può dire perché è incostituzionale, ma lo si può fare. Direi, sono stanco, scusate, scusassero, scusassero, sono stanco. Devo andare, mi dispiace, devo andare, il mio posto è là. Ho già preso la casa in affitto. Bene, lunga vita al nostro re, Sergio Mattarella. Lo dico con simpatia, eh, signor Presidente, santità, sire. Lo dico con estrema simpatia, non se la prenda con me. Io sono un piccolo professore che sui social commenta la politica. Lei è un grande che rimarrà nei libri di storia. Bene, grazie a tutti. Schifatevi un po' anche voi. Credo che vi sarete già rovinati il sabato. Rovinatevi anche la domenica. Arrivederci a tutti e grazie.